Con il capitano Nicola Fiore per parlare di questa nuova avventura che inizia, con quali prospettive? La prospettiva di cercare di fare un campionato importante, veniamo da due stagioni tutto sommato positive ma nelle quali c'è stato un giorno di andata ottimo, un giorno di ritorno negativo l'obiettivo quest'anno è cercare di avere continuità e quindi di essere squadra e di poter fare un campionato di vertice e poi naturalmente siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo nell'arco della stagione Hai fatto già la conoscenza dei nuovi compagni di squadra, di quelli che sono arrivati naturalmente? Sì, diciamo che domani partiremo in ritiro e quindi avremo modo di creare il gruppo che è una componente fondamentale per poter raggiungere obiettivi e quindi abbiamo 20 giorni in ritiro per lavorare e quindi seguiremo quello che ci dirà il mister Che campionato ti aspetti a livello di difficoltà, a livello di avversari? No, come sempre la Serie D è un campionato difficile, ci sono tante componenti, quella di fuori quota e naturalmente noi siamo una squadra costruita bene e quindi mi auguro che possiamo dire la nostra anche perché abbiamo un pubblico che poche piazze hanno indipendentemente dal girone che faremo e contiamo appunto su questi aspetti, su questi fattori per raggiungere il nostro obiettivo Grazie a tutti Grazie a tutti.